hai anche tu qualche ricordo immortalato in vecchi negativi o diapositive oppure ti piacerebbe provare la fotografia analogica facendo tu l'intero processo oggi ti spiego come digitalizzare le fotografie in modo professionale con una qualità ineccepibile spendendo pochissimo ciao sono mariano di videozappo.com sto scansionando qualche decina di migliaia tra negativi e diapositive e voglio condividere il sistema che ho adottato aliexpress mi ha inviato gratuitamente questo accessorio lo vediamo tra un attimo ma il video non è assolutamente sponsorizzato e nessuno l'ha visto prima della sua pubblicazione nessuno tranne gli abbonati che possono vedere in anteprima tutti i miei video del venerdì puoi abbonarti col pulsante sotto a questo video ma puoi anche aiutarmi gratuitamente anzi risparmiando qualcosa utilizzando i link che trovi nella descrizione o iscrivendoti ai miei corsi prima che mi dimentico oggi sto girando con un nuovo obiettivo fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi non ti dico altro quello che faremo oggi è prendere dei negativi nello specifico a colori se li ha in bianco e nero non cambia nulla o delle diapositive e li trasformeremo in file digitali lo faremo molto velocemente ti mostrerò l'intero processo il risultato finale sarà un file digitale professionale pronto per essere stampato o per essere utilizzato in qualunque altra maniera anche professionalmente quello che ci accorre ovviamente è una fotocamera io sto utilizzando la sony a 7c è un obiettivo se è un obiettivo macro tanto meglio va bene praticamente qualunque cosa anche lo zoom in kit in questo caso avrei bisogno come ho fatto io dei tubi di prolunga io in realtà sto utilizzando un vecchissimo obiettivo macro di nikon e il micro nico 55 mm non è di certo un ottico al passo con i tempi ma va assolutamente bene per quello che dobbiamo fare poi hai bisogno di questo accessorio di jjc che mi ha inviato aliexpress questo oggetto che cosa fa praticamente monta davanti all'obiettivo attaccato alla filettatura dei tubi che servono a distanziare questo oggetto qua che è il nostro porta negativi dotato di questo diffusore per illuminare uniformemente la nostra foto le foto andranno montate a seconda che siano negativi o diapositive su questi appositi supporti lo vediamo tra un istante e con i vari pezzi che è a disposizione puoi gestire la distanza tra l'obiettivo l'elemento frontale e la diapositiva inserita in questo apposito supporto e tramite questi adattatori ce ne sono svariati compresi nel kit per tutti i diametri più comuni puoi collegare questi tubi qui al filetto presente davanti all'obiettivo in questo modo ottieni un oggetto praticamente rigido che ti permette di mantenere le fotografie sempre in asse sempre alla stessa distanza dunque di andare davvero velocissimo mi sarebbe piaciuto che questi tubi anziché essere due uguali vedi io alla fine non ne ho usato nessuno ho fatto un sistema un po diverso utilizzando degli adattatori che erano sempre nel kit ma mi sarebbe piaciuto se avessero avuto delle dimensioni differenti sarebbe stato l'ideale averne tre di lunghezze differenti per gestire al meglio questa distanza che è quella che ti permette di gestire la dimensione che poi occuperà l'immagine sul sensore lo vediamo comunque meglio tra un istante poi ti serve una fonte di luce io ho scelto questo illuminatore di viltrox vedi che bello potente ho scelto questo perché perché è estremamente versatile ha un aspetto un po sopra le righe però ha un'ottima qualità della luce dunque riproduce molto accuratamente i colori e bello potente adesso lo stai vedendo al 50 per cento della sua intensità e anche rgb insomma è un illuminatore estremamente versatile la batteria incorporata dura davvero un sacco è magnetico un oggetto molto comodo poi ti servirà un supporto io sto utilizzando questo di small rig è un treppiede video estremamente robusto insomma assolutamente sovradimensionato per quello che dobbiamo fare lo sto usando semplicemente perché ce l'ho è bello solido ora qui chiaramente per farti vedere quello che sto facendo c'è poco spazio ma posso spostare questo intero oggetto senza alcun problema per cui lo posso lasciar montato in giro per lo studio senza dover me ne preoccupare ho usato questo perché tramite questa manopola che in realtà servirebbe per gestire la testa ciò collegato con questo clamp e il braccetto la luce in questo modo è praticamente tutto fisso e io questo oggetto lo posso spostare e lo posso spostare senza alcun problema ti servirà poi una pompetta per soffiare aria sui negativi questa è la giottos la mia preferita ci sono modelli molto più economici comoda può essere una lenta di ingrandimento un loop questo è fatto apposta per le diapositive 35 mm oggetto di 30 anni fa se non hai particolare dimestichezza nel maneggiare i negativi o comunque se hai la pelle grassa può essere una buona idea utilizzare dei guanti magari di cotone sarebbe meglio la preparazione di questo setup per digitalizzare negativi e diapositive è piuttosto semplice devi scegliere i tubi di prolunga adatti a farti inquadrare un qualcosa di leggermente più largo della diapositiva ci vuole un po di spazio intorno in modo tale che in post produzione potrai ritagliare leggermente la foto ma di sicuro l'hai inquadrata tutta se esageri perdi in risoluzione bisogna calibrare questa dimensione fatto questo dovrai scegliere la prolunga giusta rispetto all'obiettivo che stai utilizzando per porre il sistema questo qua dove si inseriscono le diapositive alla giusta distanza dall'obiettivo e utilizzare l'adattatore giusto per collegare il tubo che hai scelto al tuo obiettivo avvidi davanti il porta diapositiva e a questo punto ti manca soltanto la luce con questo oggetto potresti utilizzare anche banalmente una finestra quello che preferisci l'importante è che la luce sia di buona qualità la luce naturale va più che bene ma non utilizzare della luce artificiale di qualità scadente perché in quel caso non riprodurrai correttamente i colori delle tue foto utilizzare un pannellino led come ho fatto io di buona qualità ti mette a riparo da tutto quello che può succedere qua intorno e queste condizioni diventano completamente costanti per cui non devi più pensare alle impostazioni della macchina fotografica già sai che l'esposizione è quella e le foto verranno tutte perfettamente identiche jj si vende anche un pannellino apposito che si applica su questo oggetto per cui non avresti neanche bisogno di tutto l'accrocco che ho costruito io per tenere fermo il pannello è chiaro che se è una buona luce led già disponibile è inutile che acquisti anche questo ulteriore accessorio una volta che è tutto pronto e bello rigido puoi iniziamo dalle diapositive inserire il porta diapositive all'interno di questa fessura a questo punto dobbiamo preparare gli originali scegli la foto da cui vuoi iniziare poi aiutarti con la lente di ingrandimento per sceglierle io ad esempio inizierò da questa qua per prima cosa la soffio con la pompetta per togliere l'eventuale polvere devi individuare il verso corretto con questo tipo di telaietto è molto facile il lato giusto è quello bianco in ogni caso se guardi la foto così verso una luce facendola riflettere il lato che deve stare verso l'obiettivo è quello più lucido questo è quello opaco questo è quello lucido il lato lucido va verso l'obiettivo anche se la foto è verticale la inserisco ovviamente in orizzontale nel suo porta diapositive perché così sfrutterò al meglio il sensore non la metto ancora al suo posto e tra un po capirai il perché i negativi vanno preparati in maniera lievemente differente e qui devi fare un pochino più attenzione a maneggiarli vanno presi per i bordi e non devi mai toccare questo abbastanza evidente l'immagine con le dita il porta negativi è un pochino più antipatico da utilizzare rispetto al contenitore per le diapositive ci sono dei fermi qua laterali che ti permettono di mettere il negativo in posizione avere un tavolo luminoso potrebbe essere di grande aiuto e una fase critica è questa qua il momento in cui vai a chiudere devi essere delicato perché altrimenti rischi di spostare il negativo anche in questo caso dobbiamo soffiare per toglier via l'eventuale polvere a questa maniera qua e siamo anche qua pronti per utilizzarlo la scelta del verso nel caso dei negativi è un po più semplice il principio è lo stesso vedi questo è il lato lucido questo è il lato opaco di conseguenza questo è il lato che andrà verso l'obiettivo ma nei negativi è molto facile perché ci sono i numeri quando rileggi correttamente vuol dire che la foto sta nel verso giusto devi soltanto inserirla a quella maniera la macchina fotografica va impostata in manuale disabilita l'autofocus perché non vuoi che la fotocamera metta a fuoco ogni diapositiva conviene farlo con precisione a mano e all'inizio io il problema non ce l'ho perché l'ottica e manuale molto importante disabilita la stabilizzazione questo oggetto è completamente rigido la stabilizzazione introdurrebbe del movimento assolutamente deleterio fidati va disabilitata qualunque tipo di stabilizzazione a questo punto inseriamo la diapositiva al suo posto vedi che il colore è terrificante non ce ne dobbiamo preoccupare e mettiamo a fuoco per farlo apri il diaframma al massimo la foto è troppo chiara dunque potrò disabilitare la visualizzazione dei parametri di scatto ingrandisco al massimo e vado a mettere a fuoco quello che devo cercare è la grana i dettagli più fini possibili così andrà più che bene a questo punto riattivo l'anteprima dei parametri di scatto e chiudo il diaframma al valore che mi interessa ti consiglio f8 anche f11 qua non lo vedi indicato ma l'ho impostato manualmente ora dobbiamo togliere la nostra diapositiva perché dobbiamo venire a capo di questo colore orribile e per farlo regoliamo il bilanciamento del bianco a mano a questa maniera qua per determinare invece il tempo di esposizione dobbiamo basarci sugli istogrammi e lo facciamo senza la diapositiva all'interno andiamo a spostare questo istogramma parecchio sulla destra senza esagerare cioè non puoi fare questa cosa qui perché stai ottenendo del clipping quello che deve succedere è che ci sia vedi questo piccolo spazio tra il bianco e la fine dell'istogramma in questo modo l'esposizione sulla nostra diapositiva è perfetta e possiamo già vedere quello che ti sto dicendo non ti far ingannare da questo clipping sulla destra la gamma dinamica dei moderni sensori è assolutamente più che sufficiente per tirare fuori tutto quel dettaglio che eventualmente c'è nei neri della diapositiva siamo pronti per scattare conviene utilizzare un timer di un paio di secondi in maniera da non toccare la fotocamera nel momento in cui viene esposta la foto questo è il risultato possiamo anche controllare la messa a fuoco per valutare la nitidezza non basarti sui dettagli della foto ma guarda la grana la grana deve essere visibile perché quello è il dettaglio più fine che può immagazzinare una pellicola e quando la vedi vuol dire che è tutto a posto a questo punto possiamo andare avanti prendo la nuova diapositiva ti ricordo sempre di pulirla per bene individuo il lato che va verso l'obiettivo la sistema nell'altro foro sposto al suo posto questo dispositivo prendo la vecchia diapositiva intanto posso già scattare e la metto al suo posto qua nel plasticone anche qui posso controllare che sia tutto a posto ti consiglio di mettere le foto tutte dallo stesso verso un po più comodo in post produzione considera che ovviamente il bilanciamento del bianco noi abbiamo fatto sulla luce che illumina la diapositiva e questo perché non vogliamo correggere le eventuali dominanti che dovesse avere la diapositiva stessa quello semmai è un lavoro che semmai ripeto faremo in post produzione lo vediamo tra un pochino con i negativi la procedura è sostanzialmente la stessa ripeto l'operazione di pulizia dobbiamo impostare la macchina alla stessa maniera ma ci sono delle differenze per quello che riguarda bilanciamento del bianco ed esposizione per il bilanciamento del bianco mi devo regolare sulla parte arancione sulla coda del negativo la parte non impressionata io andrò a fare il bianco esattamente in questa posizione e guarda un po il nostro negativo da arancione è diventato grigio e questa è un'eccellente notizia anche l'esposizione dobbiamo sempre calcolarla su questa zona non possiamo calcolarla sulla luce che arriva perché il negativo ha comunque questa maschera questa densità per cui andiamo a regolare come abbiamo fatto prima all'esposizione in modo tale che il nostro istogramma stia tutto sulla destra magari non così tanto siamo un pochino più conservativi a questo punto siamo pronti e inseriamo la nostra foto che è questa qua possiamo ricontrollare la messa a fuoco perché magari il negativo si trova in una posizione leggermente differente infatti vedi è così la messa a fuoco ho dovuto aggiustarla leggermente ma per tutti i prossimi negativi le cose andranno sempre a questa maniera qui dunque non dovrò ricontrollarla successivamente ho dimenticato di dirti che questo adattatore jj sia questa vita qui sopra che ti permette di ruotare la parte frontale e questo per mettere perfettamente livellata la nostra immagine parallela ai lati del sensore questo ti farà risparmiare tempo in post produzione la modalità di scatto è esattamente la stessa dunque con il timer faccio partire l'otturatore e anche qui posso verificare il risultato vedi che la messa a fuoco è praticamente perfetta insomma tutto è a posto ovviamente si capisce abbastanza poco per via del fatto che è un negativo è necessaria della post produzione togliamo di mezzo anche questo qua ho fatto un po di spazio ho copiato le foto siamo pronti per la post produzione post produzione che per le diapositive è in realtà facoltativa per i negativi è obbligatoria cerchiamo di capire come fare puoi utilizzare l'editor che preferisci io ti consiglierei photoshop perché gestisce i livelli di regolazione e questo è molto comodo puoi utilizzare lightroom classic con i negativi è un po più complicato perché i cursori funzionano al contrario ma si può utilizzare se ti interessa approfondire questi temi fammelo sapere nei commenti noi utilizzeremo luminar neo e tra un attimo capirei anche il perché in ogni caso o corsi su tutti questi software cioè su lightroom classic e su luminar neo te li lascio linkati scontati in descrizione dove trovi anche tutti i link ai prodotti e agli accessori che abbiamo visto e che abbiamo utilizzato per realizzare questa digitalizzazione dunque prendiamo la prima foto ci spostiamo in modifica e la prima cosa che farei è ritagliare questa foto dopo averla ruotata e posso ritagliarla più o meno a questa maniera acqua molto rapidamente vedi che c'è abbastanza poco da fare qui abbiamo della polvere che possiamo togliere vedi è rimasto questo pezzettino siamo vedi togliere anche questa cosa qua quest'altra qua possiamo eliminarle con il pulsante cancella mi raccomando questo e non questo e ecco qua questa parte l'abbiamo messa a posto e in luminar neo abbiamo due comandi che possono essere molto interessanti ed è uno dei motivi per cui lo utilizzo il primo è questo qua migliora con ai utilizzato con prudenza sistema la nostra foto questo è il prima questo è il dopo e non abbiamo fatto praticamente niente e l'altro cruzzore che mi piace tantissimo è questo qua rimuovi dominante cromatica questo bisogna starci un po più attenti perché delle volte toglie l'atmosfera della foto ma vedi se lo facciamo per un minimo questa la foto originale questo il lavoro che abbiamo ottenuto abbiamo ripristinato praticamente il colore originale ma con una resa dei toni decisamente migliore questa foto in realtà è già a posto così vediamo i negativi che sono decisamente più interessanti prendiamo questa foto qua ci spostiamo nella sezione di modifica per prima cosa la ritagliamo dopo averla girata dal verso giusto e qui le cose si fanno interessanti nello sviluppo raw tutto ciò che dovrò fare è spostarmi nelle curve e invertire questa curva in questo pannello di sviluppo non faccio altro e non lo faccio perché se io adesso intervengo ad esempio con l'intelligenza artificiale posso migliorare drasticamente questa foto con un singolo cursore e poi c'è uno dei miei controlli preferiti rimuovi dominante cromatica che con i negativi colore fa davvero un gran bel lavoro la foto è praticamente già a posto ma a questo punto io posso lavorare sullo sviluppo per esempio aggiungendo del contrasto magari che ne so diminuendo un po l'esposizione posso anche usare dai controlli professionali l'armonia dei colori per esempio aggiungere un po di caldo e un po di brillantezza che diciamo sono cose che tendenzialmente funzionano la cosa interessante è che io posso ovviamente creare un preset o anche solo applicare queste stesse impostazioni a quest'altra foto poi la seleziono e mi sposto in modifica dove potrò raddrizzarla e di nuovo ritagliarla qua nella modifica io posso intervenire sugli interventi che ho fatto ad esempio sul colore perché vedi in questo caso erano assolutamente eccessivi posso farlo di meno posso anche spostarmi qua nello sviluppo e per esempio che ne so ridurre leggermente il contrasto magari aumentare un po l'esposizione posso intervenire direttamente su tutte le regolazioni che ho applicato e me le trovo nel loro giusto ordine con l'armonia dei colori possiamo anche variare il bilanciamento del colore in particolare diviso per mezzi toni che magari potremmo volere leggermente più caldi per le ombre che invece possiamo volere decisamente un po più calde e un po più rosse le luci invece mi sembra che vadano già sostanzialmente bene al limite possiamo fare appena questa cosa qua ti faccio vedere così e senza così e con senza e con lavorare sui negativi hai visto è un po più complicato di quello che succede con le diapositive io ho elaborato dei preset che mi aiutano in questa operazione l'ho fatto tanto per luminar per le cose da far velocemente quanto per lightroom classic e per photoshop dove il presente non esiste insomma ci sono le azioni in ogni caso se ti interessa approfondire questi temi puoi farmelo sapere nei commenti sotto al video ti ricordo il link in descrizione gli accessori di jjc che abbiamo utilizzato sono disponibili su aliexpress puoi acquistare con grande serenità da ali io ormai ci ho comprato diverse cose devo dire che il servizio funziona piuttosto bene se hai un problema cercano di aiutarti in tutte le maniere magari la comunicazione non è semplicissima ma si riesce ad ottenere davvero un buon servizio se invece il sistema che ti ho mostrato ti sembra troppo complicato o magari troppo costoso rispetto alle tue necessità magari hai soltanto poche diapositive o pochi negativi da digitalizzare ho anche realizzato un tutorial su un sistema molto più semplice da utilizzare basato sull'uso del cellulare e di qualche accessorio che di sicuro hai già in casa se devi fare tante diapositive o tanti negativi è di sicuro scomodo ma se sono pochi risparmi un sacco di soldi e si ottengono comunque dei risultati assolutamente ragguardevoli ti linko il video qui accanto dagli un'occhiata dammi anche una mano col canale metti un like a questo video fammi sapere che ti è piaciuto lascia un commento usa il pulsante grazie sotto a questo video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video ciao